zona 5 ma è Sergio wow via dritto penso di fare anche io dritto cazzo piccato dentro sulla pianta ho tirato un pugno alla pianta e dopo da lì non so come ho fatto recuperare ma mi ha sbilanciato tutto dopo te lo faccio vedere volevo portarlo ma dopo dove fai se non stai a casa la mia sta soffrendo come un pirla ho pagato uno l'infezione da imparare si e vabbè grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti